sono marco e vivo lecco abbiamo molte montagne intorno ma la grigna è quella a cui mi sento più legato quante volte mi capita nella vita quotidiana di afferrare la sua presenza la percepisco ne sento il richiamo non è raro che gli amici mi sentano dire oggi chiama oggi la grigna chiama allora cerco ogni modo per andarci per salirla e trovare con sorpresa che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire fuori dentro di me la conosco conosco la sua storia i suoi percorsi questo mi invita molto a trovare quello che cerco ma ancora di più sulle sue pendici ho conosciuto una persona ho conosciuto me stesso in relazione con la montagna e con il mio andare in montagna vivendo la compassione in armonia e in libertà armonia e libertà queste sono proprio le cose che trovo tutte le volte che la percorro in lungo e largo nel modo che più amo di andare per monti solo io e lei e il piacere d'essere montagna lasciandomi andare alla soddisfazione della scalata in un puro limpido rapporto con la montagna in questo caso con la mia grigna m first e l'accentrate la passione in questa domanda di un'amusea Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.